Magnanimità. Un foglio piegato in due, apparso chissà per quale strano motivo. Lo apro, la grafia è quella di mio padre. È un pensiero scritto al volo, d'urgenza, ma probabilmente meditato a lungo. La data riportata è 24 settembre 1991. Il titolo è Magnanimità. Sembra una riflessione senechiana su una dote che in pochi possiedono. È un mistero questo scritto perché non è stato mai pubblicato e soprattutto perché non riesco a spiegarmi come si è finito nello scatolone. Nei mesi di luglio e settembre papà si rifugiava nella casa di campagna in Sabina. Era per lui il luogo ideale dove scrivere, leggere, riflettere. Quando si faceva l'ora del tramonto, si accomodava sull'asdraio, sul balcone e contemplava i colori del sole che calava ad agio. Rimaneva lì per più di un'ora a seguire uno spettacolo divenuto per i suoi occhi e per il suo spirito un piacere assoluto. Sono sicuro che è durante uno di quei momenti che ha maturato queste righe dalle quali emerge tutta la sua bontà d'animo, tutta la sua propensione per la concordia e il perdono. Siccome ha notato anche un orario, penso che la mattina dopo abbia deciso di dare un valore a tutti i suoi ragionamenti, stilando una sua personale interpretazione della magnanimità. Quelle parole mi hanno colpito e spero regalino un'occasione di raccoglimento anche a voi. Magnanimità. La vera nobiltà dell'uomo è nella magnanimità. La magnanimità è anche espressione dell'intelligenza. Intelligenza sulle cose, intelligenza del mondo, valutazione dell'esistente e del possibile. L'uomo meschino nell'animo è l'opposto del magnanimo. Il meschino per natura non intelligent. È per questo che non distingue il bene dal male, che si qualifica come inferiore, non nobile, che si mette quasi inconsapevolmente ai margini. Se vuole imporsi, non ne ha i mezzi intellettuali. Subisce umiliazioni erodendosi dentro, col proposito di rifarsi, anche se attorto. La natura non lo ha favorito. L'errore lo incattivisce. Soltanto nella resa può correggersi. Forse potrà ricominciare. L'illuminazione deve essere possibile per tutti. La magnanimità è un'intelligenza a 360 gradi. Capire tutto è per conseguenza giustificare, tollerare fino al limite, nella speranza di attutire, di accordare, di scongiurare, di mettere degli argini, di migliorare. Il volto della magnanimità e della generosità non è sempre lo stesso. La generosità sovente non corrisponde alla magnanimità. La magnanimità esclude la rivalsa, la vendetta. Riconosce l'errore, ammette la sconfitta. Ha coscienza che dal male che patisce può nascere un bene, però deve estirpare di giorno in giorno le erbacce del suo giardino. Non può vivere di rendita. Non è vile o imbelle. Tutto ciò che fa è per avvicinarsi al miglioramento della condizione umana, la sua stessa e quella degli altri. Mira al futuro. Se c'è un'estetica dei sentimenti, la magnanimità è fatta di bellezza. Vorrei che ogni umano potesse dire al proprio simile Tu sei magnanimo. 24 settembre 1991, ore 9, 9 e 15. Mario Verdone